Benvenuti in questo nuovo video di Roblox, quest'oggi siamo su Minecraft e vi ho confuso tantissimo con quest'intro, lo so benissimo perché siamo su Roblox ma è una Skyblock di Minecraft e quindi è Roblox ma Minecraft ma Mark fa schifo, fine Ok E io c'ho il piccolo in mano, sono un grande minatore, ciao! Ciao! Allora Io ho appena raccolto due bacche Ok Fine Io ho raccolto il grano e lo sto piantando Allora Se io rompessi il legno ragazzi Infatti io volevo provare Beh, mi sembra una buona idea Però non riesco Ok Raga, io sto giocando in prima persona Ho capito subito Allora Fere, devi prendere la pianta dell'albero, Fere, guarda, prendila sulla pianta sul blocco della pianta Ma che bello che è E poi ti droppa la roba a dosso tempo Ma quello ha già iniziato a fare il minatore Non ho capito niente, ok, va bene Aspetta che provo anche io Hai capito, Steph? Io ho puntato il tronco di legno e l'ho rotto Ah, puoi anche fare il blocco sotto alla fine, guarda Io non riuscivo a farlo in nessun modo, va bene Ripianta l'alberello, Mark, se hai spaccato il primo Ok Ce l'hai nell'inventario Sì, lo so, sto provando a capire un attimo i tasti Ma ci sarà un sistema di crafting, secondo voi? Sì, c'è la workbench qua Infatti, vedi tutto quello che c'è Ah, possiamo fare un sacco di roba, ragazzi Sì, ma non abbiamo nulla Incredibile come sia È uguale, raga, è bellissimo Lo so Allora, più che altro, questi blocchetti di legno Magari possiamo usare per arrivare al portale Ma no, tranquillo, c'ho 18 pezzi di cose Ma perché dici che c'è anche un nether già fatto apposta? Beh, guarda di fronte a noi, campione Sì, lo so, ho visto, ho visto campione Secondo te quello ti porta al nether O mi porta dove? Perché stai ridendo? Marcia è volato giù Guarda che, ti giuro, te lo giuro che non è fatto Non si può shiftare qua Ebbè, non c'è lo shift Direi che è complicato Di nuovo Tranquillo, non si perde niente Stavo dicendo che non so Se è il nether o magari un posto che ci manda tipo ad una lobby Dove possiamo acquistare le cose e così via Perché anche quello viene fatto spesso Potrebbe essere Non dobbiamo andarci e scoprirlo stasera Solo vivendo lo scopriremo Non lo puoi scoprire così a casaccio Ah, ho trovato una berri-sit Ma raga Vai, dici C'è un modo? Se puoi andare dritti Sì, sì, se tu vai dritto Te lo piazza, guarda È così intelligente? Cosa? Sì, guarda, vedi che sono dritto Stuk Il creatore è avanti, raga Mi spiace dirlo Può essere Sì, sì, sì Sono d'accordo Ah, ok Stavo provando con dei blocchi di terra Ho capito Mi ha ucciso Feregat Dopo tre minuti Stavo provando per quello Avevo dei blocchi in mano Stavo provando anch'io Perché poi se devo costruire Non ci capisco niente Ma non ci arriviamo per così poco? Allora, cosa possiamo fare? La spada A Marci È bello, Marci Le cose da creare comunque Sono costitissime, ragazzi Sì, sì Sono inciampato Certo che questo inizio Con la curvetta così Non è il massimo È un bel disastro Vivere in una skyblock di robots Voglio imparare Ah, così? Vai, bravo Ok, così Vai Vado Andiamo tutti Avevo ragione io E poi vendere tutto E comprare C'è il banchiere Ma poi ci facciamo una serie da 100 episodi, Steph Veramente ragazzi No, l'abbiamo detto L'abbiamo detto Ragazzi Possiamo comprare semi Vendere tutto Bellissimo Steph Steph, vieni qua Guarda cosa c'è scritto Ma basta Ti ha scritto magno Qualcuno lo blocchi Addio No, Stef l'ha visto Cioè no, ma aspetta È qui, guarda Vedi, ti devi mettere qua a picconare Sì, sì, sì Sono in con il fuoco E poi li picconiamo, va Wow Mi ha dato un Aeronaut A me è uno di carbone Qua dice, raga Guardate questo C'è un portale E dice Need weapon Quindi che hai bisogno dell'arma Quindi sicuro qua puoi andare a fightare dei mob Bello, raga Facciamoci le armi Che figata Respauna la stone poi Scusate un attimo Secondo me possiamo fare anche gli alberi E rubarci gli alberi Prova Penso proprio di no No Quindi hanno deciso Che noi qua possiamo procurarci Tutti i materiali di stone Ma non possiamo prendere nient'altro La cosa bella è che c'è tutto un sistema di economia Quindi possiamo vendere le cose che farmiamo E comprare Puoi prendere la pietra, il carbone Il ferro Cosa stai trovando tu? Ferro? Io trovo carbone e ferro Carbone e ferro e stone Dame Sì, anche a me Di ferro e non di carbone Per ora calcolate 4 e 4 Oh, che bello Che non si consumano neanche gli utensili Vero Questa cosa è interessante Dovrebbero fare la sua Minecraft Io almeno non sto là Dovrò cambiare ogni due secondi Sto qua col mio bel piccone Bello Ricompare anche veloce Quindi volendo ci rimani tutto il giorno Marci non serve a me più via Io sono qua ragazzi Ma io non mi sposto qua Comunque lo vedete che il minerale è Sì, sì, sì Marci sta già programmando una live di Twitch Esatto Aia, aia Grazie, grazie, grazie Steph Grazie È una bellissima idea Non ce l'ho neanche pensato in realtà Eccolo qua A minare forever Guarda che questa piacerebbe un botto Madonna È bella, bella Sì Iniziamo a fare un po' di hopla Fermi tutti Hai fatto solo per dirlo Se hai cosa detto Hopla Beh, quando stai facendo il lavoro duro Allora, che si fa? Abbiamo raccolto un po' di risorse Ma adesso Hopla No, qua continuiamo all'infinito, Fiere No, no, no Ah, con Shift si può correre Uh Bello Ma c'è tutto È bellissimo C'è tutto Non è proprio come Minecraft È bello No, io non posso correre, raga Perché c'è lo Shift Lock Allora Ecco Io lo toglierei in questo caso Ok, perfetto Sono tornato all'isola Prendo il grano Oh, mamma mia Sto sbagliando tutti i tasti Quindi devo fare F così Perfetto Perfetto Cos'ha? Poi devo mettermi Hopla Molto simpatico Prego Poi ripiazzo Uno Uh, di nuovo gli alberi Vai che mi voglio fare la spada E cinque Io sto vendendo tutto, raga Ma dici? Che conviene vendere? È sell for due coins Però non va Non lo so Se vende Io torno nella mia bellissima Io non avrei venduto Io avrei craftato Anche io Ah, ma non ho venduto niente Sto vedendo come si vende Scusate Mi sono spiegato male Ok 10 coins V10 Allora, abbiamo bisogno Del fuoco O della fornace Bisogna capire anche questo Per fare Ovviamente il ferro Ok, però per fare La small furnace Mi chiede già del ferro Quindi vuol dire Che probabilmente Possiamo smeltare Nel campfire Che chiede un sacco di regna Ferre, hai ripiantato gli alberi Allora, stavo avendo un problema A proposito, Steffi In pratica Me li ha messi Nell'inventario Quello che apri Basta che ti togli qualcosa D'alimentario Premendolo dopo che apri l'inventario Esatto E poi premi la cosa D'alimentario Ok, perfetto Grazie mille Ce l'ho fatta Non ci riuscivo Grazie a tutti Bravissimi Vado a vedere se vendono Altri sapling Che magari potrebbero essere utili Io intanto continuo a minare Ragazzi, mi sembra il caso Bravo Allora, c'è qualcosa di bello Da creare Di cui io non possiamo fare nulla No, è veramente costoso Cioè, la legna ha 20 Ragazzi Cioè, per farci 4 spade Ci vuole un'infinità Eh sì I sapling costano 50 Ma ne abbiamo soldi No, abbiamo zero Guarda, ti dico la verità Steffi Io ho quasi 20 pezzi di stoni Io quasi quasi li venderei Perché un pezzino mi dà 2 Se ne vendo già 20 Siamo a 40 coin E do qualcosa a Marco Così compro Può aver senso Allora, dobbiamo puntare assolutamente Poi a fare Il campfire Non riesco a risolvere Quanto costo il campfire? Cioè, come si crafta? 10 Il campfire 10 Io ne ho 8 in questo momento Di legno E lo possiamo fare Allora, torno nell'isola a fare Vado a vedere se ad esempio Posso magari vendere anche il grano Sì, si può vendere, Stef Di grano sì Ma non capisco dove poter vendere i blocchi Allora Nell'NPC a destra Hanno tutti la scrittina sopra la testa E lì vedi blocchi, semi e così via Prego, ho guadagnato 50 soldi Wow, compro qualcosa Ho venduto tutto il grano Compro un sapling Che ci vuole un sacco di legna Ok, aspetta un attimino Che voglio vedere qua Con questo campfire Io posso farci qualcosa Vediamo Ok No Ho paura a fare Che se craftiamo il campfire È inutile, lo sai? Ma serve per smeltare Non ne siamo sicuri Perché hai letto una descrizione Che lo dice? Sì Ah Allora ne siamo sicuri C'è scritto Si usa per Smeltare Come si dice in italiano Che non mi viene Per fondere Per fondere Per fondere Praticamente basic course Quindi ovviamente sarà il coal E il ferro Quelli che abbiamo trovato E poi anche cucinare Del cibo semplice Un saluto Steph Eccomi Del cibo semplice dice Quindi sicuramente Ok Ok Ma perché non c'è No È successo Bello il grano Che carino Eh raga Possiamo un po' Magare sta cosa È bellissimo Perché a me Te l'hai trasportato Nella mia isola È quello che sto facendo Anche io No raga Venite da noi Dai Non citate Sapete che si citta sempre Quando c'è Marco Sono d'accordo Eccomi Allora Ma ragazzi Tre sapling Sapete Che maledetti che siete Io non ho fatto niente Fere Ma non ho fatto nulla Io non li ho presi Dalla mia di spawn Non vale Ma non sembra Un'isola di spawn Fere Davvero Eh certo Ma non hai dieci di legna tu Io ne ho otto Aspetta Tieni Si possono buttare Non ne ho idea Allora Vediamo Ne ha presi Marco o no? No Io ce ne ho undici miei ragazzi Eh Se riuscissimo a darceli tra di noi Eh Aspetta che sto cercando di capire Quale mi gestione Sì ma non posso Sì buono ragazzi Ragazzi con la Q Ah uguale Per Minecraft Vai luta Lutto io Vabbè lutto io dai E fai il recap con lei Sono cresciuti altri alberi Mi occupo di quelli Perfetto Quindi ripientiamo subito Bene Io vado a dormire sul grano Buonanotte Allora Ha dei testi un po' strani Però sto ingranando Ok Perché sono totalmente diversi Da quelli di Minecraft Ragazzi ragazzi Pocherello Opla Opla Questo è quello di Fortnite Questo è quello di Fortnite Allora E se io metto l'iron E se tu metti l'iron Non succede nulla E metto la legna L'ho trasformato Sì 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 Io non posso Perché è già pieno Eh sì Ci sto lavorando Ho due sapling Dove li piazzo? Beh abbiamo un'isola Non c'è più spazio C'è più sapling Che terra adesso Non c'è più spazio Mettiamo Nella zona del nether Scusa Hai ragione Guarda uno lo vado a mettere lì subito Marco Bella idea Bella idea Dici che lo puoi utilizzare Secondo me non la puoi distribuire Anche Marco ha la sua intelligenza comunque Ma ragazzi Vi devo picchiare adesso dopo No dopo No dopo dopo Mi hai rubato l'iron Comunque ci sono un sacco di altre isole Stef Ma è pieno Ma sono le nostre Sono le nostre secondo me Ah dici? Sì ovvio Sono troppo lontane No ma anche dietro Allora ci siamo solo noi qui dentro Quindi sono tutte le nostre isole di spawn Vado a metterle anch'io raga Raga abbiamo già 4 di ferro fatto Ma i costi delle cose sono fuori di testa Te lo sai tu Stef Cioè ma che proprio tu dici Ma non è possibile Non è possibile Non è possibile Ma cosa stai facendo? Non so io sto mettendo l'aeron Ma stai togliendo tutto il legno per cuocere Aia Ma non è vero? Aia Non c'è più legna Adesso sì Ma cosa è 1 e 1 Ma bisogna mettere 1 alla volta Sì Perché il camper è brutto Poi devi fare la small furnace Che costa appunto 10 di ferro Per upgradare Aia Quanto ci vuole Io sto giocando in prima persona Per fare il tavolo Ci vuole il legno Legno Per fare il legno Ci vuole l'albero No ci vuole Marco Per fare il legno Ma in effetti avevo coal Perché ho messo la La legna Non te lo fa mettere il coal Davvero? Probabilmente possiamo metterlo solo Della small furnace Della fornace Esatto Quanto costa la small furnace? La small furnace costa Alla fine pensateci Essendo un camper Devi mettere la legna Non il carbone Hai ragione In realtà ci metti Il carbone sotto Il cosino che c'era sopra Dimmi Quanta legna hai? Sei In questo momento Così poca Non stanno crescendo gli abiti Aspetta Ti dico quanto ne ho io Mannaggia Ecco ne ha appena cresciuto uno Le spade Potremmo andare a combattere Eh io volevo fare quello Però guarda Steph Da 6 sono passata a 9 Ho fatto un albero Ok Prendi la legna Che tira Marci Dove sei? Ok Allora Ok Penso che almeno una spada La creiamo Ma è bellissima Questa cosa ragazzi Quanti dai fare? Riuscirò a prenderlo 16 Ok not bad Non male Non male dai Taglio l'alberello Continua a ripiantare Ripiantare Ecco un altro Taglio l'alberello Ok Poi prendo tutto il granello Il granello Non direi festerie Comunque ho la legna per la spada Adesso me la creo Ok Quanto costava fare? 20 20 20 È quello che sto dicendo La stone per ora non serve a nulla Poi io la prendo Raga guardatemi Ha una spada Ha una spada È cattivissima Ma è bellissima Vedete Oh Oh Non mi fate arrabbiare qui Sta tagliando l'aria No non vi posso colpire Quindi è solo per i mob Però guardate ragazzi Sono carichissima Andiamo a colpire i mob Mamma mia Fere carica Io guarda Allora adesso tutta la legna La tengo per gli altri A me serve la legna Cos'è che ha fatto Marco? Mi ha rubato la legna Io l'ho rubata a fare Io non ricordo Ognuno ruba qualcun altro Steph la stiamo raccogliendo Per fare le spade per tutti Non so se tu vuoi venire Ma io vado a combattere Sì vengo anch'io Arrivederci Fermatemi la legna Ciao Vengo anch'io Guardate Io ho ucciso col piccocci Ma ragazzi Io non ho abbastanza legna Guarda È cresciuto un altro albero Anche qui Mark Ti conviene prenderlo Ah l'ha preso Chi l'ha preso? Dategli la legna però Che si fa la spada Mark è caduto Ma è vero L'ha fatto a cadere Ho visto cadere Ma come vuol dire No è qua Mark ammetti che sei caduto De Mark Ammettilo De Mark ammettilo Ti ho visto Allora Diccelo Ho piantato tutti gli alberi che ho Così nemmeno ne crescono altri E possiamo andare Buon viaggio eh Io sto qua da solo A divertirmi da solo Allora Aspettami Fede però eh Ma Marci Tu non hai un'arma Secondo me non ti fa passare Ma sì Secondo me la fa passare Ma neanche a me fa passare Perché devi parlare con l'adventure Ah Salve signore Costa 200 La zona degli slime Addirittura Ma io non ce l'ho C'è 200 Devo iniziare a minare un botto Questa è una truffa Ma scusate Non basta Avere la spada Che già è costata un sacco Steph non ce la faremo mai Dov'è lo shop di questo Eh c'è soltanto il VIP Fer Anch'io c'ho già provato Eh Ti dà più soldi Ma nel tempo È una fregatura Eh no Non ci serve a nulla Perché ti vuole far giocare Il creatore della mappa Non vuole guadagnare raga Esatto Peccato Non gli interessa fare soldi raga Io li avrei dare Allora posso vendere Le berries Va Ma è fatta troppo bene È molto bella È molto bella Ok Ok Allora l'iron Ma ci sei rimasto un po' male Ho fatto 60 monete Wow Sì aumenta il pick Allora Fatemi controllare un attimo Game rule Ok La small furnace Fede Mark quanto ferro hai Che hai fatto? Dove? Io ne ho sette Butta Posso fare Sì faccio la small furnace Tieni qua campioncino Grazie 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 Cos'è questa cosa del banchiere? Cioè ti fai sacchetti? Che cos'è? Eh sì Perché così magari dai soldi Capita? Tipo se vuoi darmi i soldi L'ho interpretato così Anch'io non l'ho capito bene Allora Mark Dimmi Guarda che bello eh Pronto? Vai 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 La metto L'alberello Qua Vai Ma cos'è bellissima? È perché qua ci metti il coal Eh? E poi E poi E poi Into the small furnace Ok E dopo di che penso che metti a cuocere Ho parlato con tutti Nella speranza Fai tre alla volta Bello Bello Quella grossa quanto costa invece di fornare? Mace se esiste Aspetta Stef Ne ho anch'io da fare tre Quindi poi lasciamola libera Sì 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 Però Stef perché stai mettendo tutto appiccicato? Abbiamo un sacco di spazio Guarda io penso che queste critiche le potresti fare a qualcun altro No le faccio proprio a te No Non ha senso estetico Stef Allora ragazzi Io sono confuso da questo I campioncini devono soltanto vincere Hai finito? Sì ho finito Ok Ma non c'è il bambù? No Fatto? Ho messo a cuocere? Sembrava un Hai finito di parlare? Sembrava È per quello che il gioco Raga per fare la workbench tier 2 Per sbloccare altro crafting Ci serve 50 50 e 50 Di che cosa? Legna, stone e ferro Guarda Stef Questa è la mia reazione Ok? Non si può fare questa cosa Comunque sembra lungo come Animal Crossing Per fare queste cose Sì Più o meno sì 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 Io ci sto passando la vita La mia esola fa ancora schifo Quindi Davvero per me è la stessa Non ho una switch da tre mesi Quindi Allora Crafting table Quando iniziare sarà l'inferno Mark Ah ma questa? Ah questo è per cucinare Ok Alberi, alberi Su, su, su Prendiamo tutto Non so Ah Ho capito adesso Cosa stai capendo? Probabilmente Penso molto a poco 3, 4 Se noi Facciamo l'albero Poi ci fa il tavolo No penso che se noi facciamo gli utensili migliori Otteniamo di più Sono confuso Ah beh sì ha senso Quindi se facciamo l'utensile Eh serve tanta roba Eh ma porca miseria La stone serve 20 di stone Per fare Allora io ho 20 di stone La Ti lascia Non è un grosso problema È la legna È la legna Secondo me è un problemino Perché la stone vai a farmartela nella miniera è davvero easy Infatti io ne ho già 20 Però ho altri 10 di legna Ne ho 3 Eh brava Non la penso come te Allora però aspetta Io riesco a farla Vai Accetta di stone Accetti? Accetto L'accettiamo 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 Ok lui la piccola L'accettiamo Appena c'è un albero lasciatela a me e vi dico se è da più legna Ok Per forza Sì Altrimenti È così La formaccia è velocissima raga Sì è velocissima quella marci Infatti sto facendo un sacco di ferro Io sono in prima persona e un momento buggato È un combattimento incredibile questo Guarda che potenza di combattimento che c'è qua Arrivo anch'io Vai Ferre Ferre unisciti Aspetta arrivo Questa è la battaglia finale Mettiti in prima persona Steffo Aspetta aspetta ci sono È magia in prima persona Mi sono buggato Eccomi Mamma mia Chi è che ha pensato di vincere qua Io Pensate che sei più forti Siete dei novellini Marci ci fissa immobile senza dire nulla Poverino Povero Un po' cresce Va bene vado a farmi in giro È cresciuta dell'erbaccia Sì la taglio Guardatemi raga Per favore No Ragazzi però Cioè non si possono fare queste cose No perché Se lo fai devi girare in tondo No Vi faccio vedere così Guardate Pronti Vai Vedi Pazzesco Questa ventidilegno Dove li trovo ventidilegno Se vuoi prendere Negli alberi E io faccio una cosa ragazzi Vado nell'isola di Ferre No Non ce l'ha Non c'ha l'isola Sì che ce l'ho Ho tolto tutti i sapling Dai raga Sì che ce l'ho l'isola Raga ho una domanda Sì Gli alberi sono morti Cioè è due ore che non cresce un albero Lo so Vado nella mia isola Marce non si nutta così Devi aspettare che è pronto Raga è pieno di roba nella mia isola Venite a depredarla Eh ma non ce l'ha Allora fermi che controllo Vi dico se mi da più legna Mi ha dato quattro Eh uno in più Non è male Non è male Non è male Non lo butti via Raga io ripianto gli alberelli anche qua E ogni tanto veniamo a depredarcelo Vediamo se è una coincidenza Magari mi da anche cinque ora Sempre quattro Io sono abbastanza emozionato Io sono triste Posso essere Emozionato Steph Sì mi sono un po' Mi è scelta anche la lacrimuccia Eh allora proprio siete esagerati Eh no 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 Comunque da tre a quattro un attimo Raga Io ho quasi duecento di soldi Ma com'è possibile Sblocca l'isola degli slime Io ho dato tutto quello che ho Perché lui farma la stone e la vende No io farmo il ferro lo vendo Ma il ferro ci serve È criminale Ci serve E se adesso vengo a rifare Sta giocando da solo Ma non è vero Se voi avete già le spade Non c'ho le spade Eh Steph mi consigli L'accetta o il piccone Eh io ho Il sorriso Tu hai l'accetta Io ti consiglio il sorriso Ascoltami Tu hai l'accetta Sì Facciamo il piccone Marci dove sei? Io non vi ascolto Marci Allora vieni qua Che ti do il piccone bello Oppure non te lo do più Piccone arriva arriva Sono Così almeno Marci Che sta sempre piccolando Quando prende più materiale Ci può fare più soldi E vi ignoro volutamente Va bene Sto arrivando Guardate Steph che pianta Ok Quasi al portale Guarda quella che mi va a prendere La legna disperato Cosa? Steph ti dà più legna quindi? Sì Fere Quattro Bello Sì non è una grande emozione Con quello che è costato Porca miseria Esatto Te li dipende i mesi Eccomi Fere Ti ho lasciato il mio piccolo Non si può buttare Sì è qua per terra Sì lo vedi? No il mio non si può buttare Allora Vabbè lasciatelo Nell'inventario Però è quello Raga io vi dico Ci fermiamo Che se no rimaniamo Con un'ora a farmare Perché ci conosco benissimo Ciao Vado a sapere Se volete vedere altre volte La skyblock Anche se veramente È lentissima Quindi ci volete male Se ci chiedete di sì Perché dobbiamo formare tantissimo Salute con voi altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao